Consumare prodotti del territorio perché è necessario dare un messaggio forte in un periodo di alta criticità come quello attuale e perché gli alimenti prodotti con tanta dedizione e professionalità dai nostri agricoltori rimangono un privilegio di altissima genuinità. Fabio Molinari, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Sondrio, in un video diffuso quest'oggi si schiera ancora una volta a fianco di Coldiretti, l'associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana con la quale le scuole della provincia portano avanti da tempo progetti di collaborazione. Abbiamo fatto vedere ai ragazzi quali sono i prodotti della loro terra, come nascono, dove nascono, come vengono lavorati e quest'anno avremo voluto continuare in questo senso, pazienza lo faremo l'anno prossimo, però credo che se le famiglie accolgono questo invito a consumare e acquistare i prodotti del territorio, questa ideale catena di lezioni di trasmissione di un determinato tipo di sapere possa arrivare ad un suo completamento. Quindi anch'io veramente condivido questo appello e mi auguro che possiate darmi una mano nel sostenere le nostre produzioni, le nostre produzioni locali di questa splendida terra che è la Valtellina. Grazie davvero.